Sta assumendo i contorni di una telenovela la vicenda del nuovo allenatore in Casa Pescara. O meglio, il DS Inpector è Daniele Delicari e la sua scelta l'ha fatta da tempo ed è Zdenek Zeman. Ma forse mai avrebbe immaginato che, oltre che dover ricucire il rapporto logro tra il boemo e il presidente Daniele Sebastiani, oltre a dover convincere l'allenatore di Praga con un progetto tecnico a lui adatto e con una proposta economica all'altezza della situazione, avrebbe dovuto fronteggiare le dinamiche societarie in atto a Foggia. Secondo quanto appreso, infatti, Zeman avrebbe chiesto ulteriore tempo per dare la priorità a Foggia, essendo in parola con l'imprenditore Antonio Salandra della Fortora Energia, di essere lui l'allenatore dei Setanelli in caso di ascesa alla proprietà del club. Superata senza sviluppi la vicenda canonico Pintus, col primo che resta proprietario del 51% delle quote, gli ultimi sviluppi, portati alla luce dalla Gazzetta dello Sport stamani, parlano di una offerta dello stesso Salandra ai proprietari del Foggia per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale dando tempo 5 giorni per una risposta. In tarda mattinata lo stesso Canonico, su alcuni siti locali, ha confermato di aver ricevuto l'offerta senza chiarire il nome del potenziale acquirente, ma ha subito detto no, rimandando l'offerta al mittente. Sul fronte Pescara filtra nervosismo e rabbia dei vertici biancazzurri per questa direzione dei tempi. A tutti i dubbi già avanzati nei giorni scorsi aggiungiamo vale la pena affidare la ripartenza del Pescara e il nuovo progetto tecnico ad un allenatore che fa apparire questa piazza come una scelta di ripiego, visto che siamo oltre i tempi accordati per dirimere la vicenda Foggia, fin quando è giusto attendere. E questo no odierno dell'attuale società può sbloccare la situazione o resterà frenata fino all'inizio della prossima settimana? Dal canto suo Alberto Colombo continua a restare alla finestra e, almeno a questa mattina, non ha avuto contatti diretti con la dirigenza biancazzurra, gli ultimi risalgono a oltre dieci giorni fa. Intanto la telenovela va avanti e non sembra il modo migliore per dare il via alla nuova stagione.